Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa breve lezione sul Parlamento come organo costituzionale dell'ordinamento giuridico italiano. Il Parlamento è uno degli organi più importanti, o potremmo anche meglio dire il principale, il centrale della nostra Costituzione. Vedete l'articolo 55 ci dice come è composto, si divide esattamente in due Camere, Camera dei Deputati, la cui sede è a Montecitorio e Camera del Senato, la cui sede invece è a Palazzo Madama. Le due Camere sono esattamente uguali, non per numero. La Camera dei Deputati infatti conta 630 deputati, mentre quella del Senato 315, ma sono uguali intesa nel senso di funzioni. Questo si chiama infatti bicameralismo perfetto. Vedete qui le sole differenze che riguardano poi in realtà la componente numerica, e l'abbiamo già vista, e i concetti di elettorato attivo ed elettorato passivo. L'elettorato attivo è quello che noi abbiamo per votare, quindi Camera dei Deputati 18 anni e Camera del Senato 25 anni. L'elettorato passivo è quello per essere eletti, Camera dei Deputati 25 e Camera del Senato 40. Vedete che questa breve slide, che forse è un po' datata, vi parla del sistema elettorale, ma questo lo riserveremo ad altra lezione in maniera più approfondita. La legislatura è il termine con il quale noi indichiamo la durata delle Camere. Da noi è di cinque anni. Potrebbe anche accadere che le elezioni si svolgano prima della scadenza dei cinque anni. E questo quando succede? Quando in realtà il Parlamento viene sciolto perché si è aperta una crisi di governo. Perché abbiamo il bicameralismo? Vedete qui ve l'ho brevemente illustrato. Da una parte viene, l'abbiamo visto tante volte anche insieme in classe, da un discorso storico. Esisteva ancora all'epoca dell'Inghilterra, il re con la Camera alta, quella formata praticamente dagli aristocratici, e la cosiddetta Camera bassa formata invece dagli artigiani, dai commercianti, eccetera. Noi l'abbiamo conservata, l'abbiamo portata dopo l'esperienza francese in Italia, l'abbiamo conservata durante il periodo dello statuto albertino, poi abbiamo visto che il fascismo non esisteva, non c'erano state le elezioni, l'abbiamo recuperata nell'Italia repubblicana. Andiamo a vedere le funzioni del Parlamento. Allora, la più importante è la funzione legislativa, alla fondamentale, quindi il Parlamento è l'unico organo deputato nel nostro sistema costituzionale a detenere il potere, uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, di fare le leggi. Poi il Parlamento ha la funzione di indirizzo politico con il Governo, quindi decide le linee di politica generale, ma si consulta, potremmo dire, più che altro con il Governo, perché il Governo è espressione del Parlamento. Poi abbiamo una funzione di controllo, vedete sempre sul Governo, perché l'organo centrale è il Parlamento, non il Governo, quindi il Parlamento controlla il Governo. E poi abbiamo alcune funzioni che si realizzano quando le due Camere si riuniscono insieme, quindi 630 più i 315, e sono delle funzioni molto specifiche, più che altro elettive di organi particolari, ma le vedremo, eccole qui, nella slide successiva. Quindi il Parlamento si ritrova in seduta comune quando eleggio il Presidente della Repubblica, quando egli giura, quando deve metterlo in stato di accusa per due reati di cui può essere accusato solo lui. Vedete, sono legami stretti proprio con la carica più alta dello Stato. Quando deve eleggere un terzo dei giudici della Corte Costituzionale, che è un organo di difesa della Costituzione che abbiamo solo noi, potremmo dire, nei vari ordinamenti del mondo, e quando deve eleggere un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo che si occupa di tutto ciò che riguarda il potere giudiziario. Vedete? Quindi il Parlamento solo in questi casi si riunisce insieme nelle due Camere. Questo è il caso che dicevamo, che accennavamo prima. Quando è che la legislatura può terminare prima? Quando c'è una crisi di governo, quindi il governo non ha più la fiducia, quel legame che è tipico delle forme di governo parlamentare, che lo lega praticamente al Parlamento e quindi il governo si dimette, la legislatura finisce praticamente prima in anticipo, a cui vi ho portato l'esempio di Tancendopoli, da lì in poi le nostre legislature sono sempre terminate. Prima dei cinque anni abbiamo avuto anche l'esperienza di una legislatura durata quasi due anni e cosa succede? Si va a votare tranquillamente. Ora le elezioni, vedete, devono avvenire, quindi noi non restiamo mai senza il Parlamento entro 60 giorni. Cosa succede in quei 60 giorni? I poteri della Camera in vigore sono prorogati e cosa può fare quel Parlamento che praticamente sta arrivando alle nuove elezioni? Soltanto le situazioni di urgenza. Cosa sono le situazioni di urgenza? Per esempio c'è un terremoto, emergenza sanitaria, come stiamo vivendo per il covid e così via. Quindi poteri che riguardano solo situazioni momentane e difficili. Come è strutturato il Parlamento al suo interno? Esattamente uguali, quindi quello che vediamo qui vale sia per la Camera dei Deputati che per la Camera del Senato. Abbiamo il Presidente della Camera che ha le funzioni di coordinamento, di guida dei lavori eccetera e poi abbiamo un ufficio di presidenza che lo aiuta. All'interno della Camera poi abbiamo le commissioni, i gruppi e le giunte. Le commissioni sono l'organo più importante perché sono l'organo in cui all'interno i diversi parlamentari vengono individuati per competenza. Cosa vuol dire? Per esempio c'è la commissione lavori pubblici. Di cosa si occumerà? Dei lavori pubblici, per esempio le strade oppure la commissione istruzione. Di cosa si occuperà? Dell'istruzione, dei problemi della scuola. Chi ci andrà in una commissione del genere? In quella dei lavori pubblici ci andranno dei deputati, dei senatori che prima di diventare, di essere eletti al Parlamento facevano come lavoro ad esempio l'ingegnere. Anche in quella per esempio della scuola ci andrà chi? Chi nella vita diciamo tra virgolette normale faceva l'insegnante, il preside, l'operatore scolastico. Vedete? Quindi le commissioni sono veramente degli organi, potremmo dire, molto di potere perché sono loro che poi, vedete che ve li ho anticipati qui, esaminano il testo legislativo, il testo normativo sia in sede referente che in sede deliberante. Poi all'interno delle Camere abbiamo i gruppi parlamentari. Cosa sono i gruppi parlamentari? Come dice la parola? Sono dei gruppi che si formano con parlamentari che possono appartenere allo stesso schieramento politico oppure a schieramenti politici diversi. Quindi vuol dire parlamentari di idee diverse che si riuniscono, si mettono insieme, si chiamano infatti gruppo misto e che di cosa si occupano? Per esempio si occupano di scrivere insieme una legge oppure di far portare avanti una certa approvazione e così via. Quindi qui non abbiamo competenze particolari, abbiamo solamente che c'è un obiettivo potremmo dire, perché adesso lo vedremo, i parlamentari possono sempre nell'arco dei cinque anni cambiare il loro pensiero, il loro orientamento, è una delle loro praticamente prerogative. E poi infine abbiamo le giunte parlamentari che sono quelle sempre che coadiuvano i lavori del Parlamento e che intervengono nei momenti finali decisivi di approvazione della legge. Ecco, vedete, queste sono le maggioranze che servono per votare i presidenti delle Camere, perché sono importanti i presidenti delle Camere. Quello della Camera dei Deputati, perché è veramente un ruolo di riferimento, sono le due cariche che si trovano proprio al di sotto della Presidenza della Repubblica, no? Il presidente della Camera dei Deputati e quello del Senato. E quello del Senato soprattutto è il presidente e il ruolo che interviene quando il presidente della Repubblica, li vedete anche qui. Per esempio è all'estero, quindi la seconda carica, quella che voi ad esempio negli USA chiamate il vicepresidente, noi non ce l'abbiamo, abbiamo il presidente del Senato che ricopre questo ruolo. Vedete che hanno anche tutti questi organi che li aiutano, i questori sono praticamente dei funzionari che li aiutano nei lavori delle Camere. Sarebbero quelli che voi a volte vedete in televisione quando ci sono discussioni particolarmente vivaci, intervengono. Ecco, queste sono le maggioranze che servono per approvare i testi normativi. Vedete? Il numero legale, quindi prima si va a verificare che siano presenti la metà più uno, quindi di 630 devono essere presenti 316 deputati, altrimenti non si può procedere alla votazione e poi a secondo di quello che noi stiamo votando, se è una legge ordinaria, la legge finanziaria, stiamo votando per esempio la votazione delle elezioni del Presidente della Repubblica, quindi abbiamo detto insieme 630 più 315, poi ci sono altri votanti, dobbiamo fare la metà più uno e lì avremo per esempio i due terzi dei componenti, si fanno semplicemente dei calcoli matematici. Come possono essere le votazioni delle Camere? A scrutinio palese, va bene? Quindi col procedimento elettronico, quando voi li vedete in televisione, per appello nominale vengono chiamati, questa è la votazione del Presidente della Repubblica o per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto, lasciamo stare quello che c'è scritto sotto, a noi non interessa in questo momento, faremo un'altra lezione. Qui abbiamo lo status di parlamentare, cioè essere parlamentari vuol dire avere una serie di prerogative. Allora, prima di tutto andiamo qui, divieto di mandato imperativo, cioè il parlamentare nel corso dei cinque anni non ha nessun vincolo, quindi può cambiare idea, può per esempio proporre una legge che sia completamente fuori da quello che lui aveva detto nel suo programma politico e così via. Poi abbiamo le immunità, quindi lui cambia il voto, cambia l'opinione, non può essere perseguito né dal suo partito né da altri. E anche quella fisica, vedete perquisizione e intercettazioni? Siamo proprio nella piena attualità, devono essere autorizzate dalla Camera a cui appartiene. Infine abbiamo l'indennità, cioè una somma di danaro che viene data, una retribuzione per il lavoro che loro svolgono. Chiaro che nella vita normale il loro lavoro potremmo dire che va in pausa, che va in stand by, quindi io percepisco la somma di danaro perché sto facendo il parlamentare o il deputato o il senatore. Chi è che non può essere eletto? Per esempio i consiglieri regionali oppure coloro che già sono senatori o deputati, sono già presidenti della Repubblica e sono già giudici costituzionali, ma in questo caso il ruolo è anche incompatibile. Ok, quindi se un deputato viene proposto come candidato alla Presidenza della Repubblica perde lo status di parlamentare. Eccoci alla funzione legislativa. Allora, una legge ordinaria, abbiamo gli articoli dal 71 al 74, cioè varie frasi. Iniziativa, si inizia la discussione, poi viene discussa e viene approvata, viene promulgata, cioè viene mandata dal Presidente della Repubblica perché la firmi, viene controfirmata dal Ministro di Grazia e Giustizia e poi viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Eccoci all'iniziativa legislativa. Vi lascio vedere le slide, vedete, ve le spiego brevemente, ciascun membro del Parlamento può proporre una legge, può essere fatta anche eventualmente dal governo e si chiama disegno di legge, può essere fatta da ogni regione, queste le conosciamo, ma anche dal CNEL, che è un organo che in realtà non ne ha mai presentate. Quindi, oppure da 50.000 elettori possono proporre una legge. Dopodiché, eccole qui le commissioni, vedete? Va in commissione permanente che agisce in sede referente, cioè lo discute, lo analizza, perché non è semplice scrivere una legge. Se viene approvato, viene inviata alla prima Camera, se lo approva così com'è, viene inviata all'altra, altrimenti tutte le integrazioni la legge deve tornare alla commissione. Vedete che è un procedimento lungo, è un procedimento complesso, ecco perché le leggi in realtà nel quinquennio sono molto poche. La procedura abbreviata, quando noi andiamo in sede deliberante, quindi per esempio leggi che sono escluse, vedete, sono quelle indicate dall'articolo 72, quindi qui è la commissione che delibera, quindi il Parlamento viene un po', vedete c'è scritto qui, viene un po' esautorato. In questo caso non è proprio, proprio, proprio il Parlamento che svolge tutto, ma è anche molto a competenza delle commissioni. Infine, la legge arriva al Presidente della Repubblica che fa l'ultimo controllo, vedete, vede se ci sono elementi di costituzionalità, se ce ne sono la rimanda alle Camere e in quel caso le Camere non la prendono più, non la esaminano più perché ce lo sta dicendo l'organo più alto dello Stato e il Presidente della Repubblica non, diciamo, sottolinea, vedete, con un potere di veto, va bene? Infine viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed entra in vigore ed è obbligatoria per tutti. Questo invece riguarda le leggi costituzionali che hanno una procedura aggravata, ma questo lo vedremo in un'altra lezione.